È contenuta in 13 punti i proposti nella mozione approvata all'unanimità dalla terza commissione consigliare della regione la tutela delle api e della biodiversità. Il documento a firma del pentastellato Taglieri impegna la giunta a proteggere gli insetti impollinatori e a ridurre il rischio legato all'impiego dei fitosanitari. In Abruzzo, ha spiegato Taglieri, sono presenti 1645 apicoltori che conducono 1950 apiari per un totale di 38.805 alveari condotti, presenti soprattutto nella provincia di Chieti che da sola racchiude il 57% del patrimonio apistico regionale. Il settore produce circa 900 tonnellate annue di miele. Su scala globale si ritiene che le api siano responsabili di almeno il 35% della produzione agricola mondiale grazie all'impollinazione. Purtroppo i dati raccontano anche di una riduzione degli insetti impollinatori che ha portato sia l'Unione Europea sia il Parlamento Italiano a legiferare per garantire una più ampia attenzione sul tema. L'Abruzzo, che ha già in essere delle norme per ridurre l'uso di pesticidi, oggi è al tredicesimo posto nella classifica delle regioni italiane in merito all'uso di prodotti chimici. L'obiettivo è diventare una regione virtuosa riducendo al massimo la mortalità delle api e la drastica riduzione del numero di colonie. Le cause sono diverse dall'insorgenza di malattie alla progressiva diminuzione delle piante mellifere e pollinifere che servono alle api per il sostentamento fino all'utilizzo nocivo di prodotti fitosanitari e pratiche agricole non sostenibili. Il documento approvato dalla terza commissione consigliare regionale prevede la collaborazione di settori sinergici come apicoltura e agricoltura, una serie di iniziative per una corretta conoscenza delle modalità di produzione e l'inserimento di percorsi scolastici finalizzati a corretto utilizzo del cibo. Vale la pena ricordare che ad Oslo in Norvegia è nata ed è già attiva la prima autostrada delle api, un percorso realizzato in piena città con pit stop costituiti da fioriere posizionati ad una distanza di 250 metri l'una dalle altre, dove le api possono fermarsi, riposarsi e alimentarsi. Un'idea che potrebbe realizzare anche la regione sfruttando magari il corridoio della via verde con la collaborazione dei comuni attraversati.